D'Alfonso come ex sindaco di Pescara, ex presidente della provincia, un minuto. Sciorino i miei secondi, il primo secondo per dire che è cosa non è giusta questo livello di approfondimento. L'alternativa a questo livello di approfondimento è il niente che si tocca con mano in giro, non solo per Pescara. Mi pare che sia riuscita non solo perché è venuto uno bravo come il dito Iannuzzi, che è ministro ombra per le infrastrutture e i trasporti, ma perché c'è la comunità di coloro i quali devono produrre prodotto, servizio e diritto goduto degli spostamenti, quindi bravi agli organizzatori. Due riflessioni essenziali. Vedete, io penso che noi dovremmo riguadagnare un'abitudine. Programmare non significa perdere tempo.